Eva, tra i giovani in gara a Sanremo, come sei arrivata fino qua? Un po' di gente forse lo sa, però vorremmo riraccontarlo. Beh diciamo che sono partita da un talent l'anno scorso molto conosciuto che è X Factor, sono arrivata in finale e dopodiché ho fatto un sacco di cose quest'anno, un sacco di festival, ho aperto i concerti di Carmen Consoli, Max Gazet, Battiato, un sacco di nomi importanti, insomma infatti sono molto molto contenta del mio percorso che mi ha portato fino a qui e adesso si va a Sanremo, ancora non ci credo e sono davvero felicissima, veramente. Ci racconti la tua canzone? La mia canzone si intitola Cosa ti salverà ed è un messaggio, un po' un augurio diciamo che io voglio fare un po' a tutti, ovvero a volta ci lasciamo un po' schiacciare dai problemi che ci circondano, dalla vita impegnativa che abbiamo, fatta di stress, di tutte queste cose un po' che pesano, no? Quindi quello che voglio dire col mio brano è di avere più riguardo verso quello che proviamo dentro, più che quello che ci circonda diciamo, ecco, quindi prendiamoci cura di noi. Viva il lupo! Viva il lupo, grazie! Viva il lupo, grazie!